...tantistica nata a febbraio 2010, proprio dalla collaborazione dei due insegnanti. Stendete! Lo stiene bravigato, lo sigo e lo subito. Lo stile praticato allo Shito Ryu Shukokai, scuola giapponese di cui la Zanchinkara de Dojo è legata tramite l'affiliazione alla Shukokai Italia, il cui referente per l'Italia è il maestro Alberto Salvatori. Velocemente alcune informazioni che vi permetteranno di comprendere meglio quello che facciamo e che vi proponiamo di farvi vedere e comunicare con la dimostrazione. Il Karate, l'arte marziale della mano vuota che deriva dall'antica Thode, l'arte cinese di combattimento a mani nude ai fini della difesa personale. E il Karate Do, la via del Karate, uno stile di vita per la pratica dell'arte marziale dove spirito e corpo si fondono. E ora il saluto, avete fatto già il saluto perché nel Karate tutto inizia e finisce con il saluto. I piccoli samurai a cui dedicherei un applauso di incoraggiamento, che sono gli atleti di oggi e di domani, formati dall'arte marziale. L'hanno eseguito il saluto, ora effettueranno il riscaldamento e delle tecniche. Il Karate, l'arte marziale delle tecniche. Il Karate, l'arte marziale delle tecniche.